Eccoci qua, in una giornata estiva ci stiamo avviando, primavera è stata autunno, il dottor Attardi si ha fatto delle lunghe ferie sicuramente, una stata di preciso. A Siracusa e dintorni e poi Pozzallo la mia origine mai tradita. A Sirusa sempre per controllare le malefatte che fanno l'amministrazione comunale? Purtroppo sì, purtroppo, non morremmo, gli abbiamo dato spazio, lo facciamo respirare a Cicciuzzo nostro, ma pecca, continua a peccare Cicciuzzo, sei un peccatore. Allora dottor Attardi, molti cittadini residenti oppure in villeggiatura qua nel villaggio a Renella, nella zona Renella, gli hanno scritto determinate cose, l'eterno, hanno formato un comitato, ma l'amministrazione comunale fa orecchie da mercanti e caccia il tasso come un reguio e caccia in esce. Non vuole sentire a nessuno, cioè loro sono dittatori perché vogliono governare chi è che ci piace. Prima di iniziare sul discorso della Renella voglio fare una premessa, dottor Attardi, ieri sera me lo sono andato a mangiare in un ristorante d'Ortigia e ho preso per la prima volta nella mia vita il bus navetta. Devo fare un elogio all'Ast perché ho messo a disposizione dei pulmari veramente confortevoli, con aree condizionate, molto molto bella, autisti educatissimi. Però dico una cosa, amministrazione comunale, l'Ast gli abbiamo fatto il meglio, ma voi vi facciamo un demerito. Io propongo una cosa, invece di fare pagare un'ora il parcheggio a un euro, un euro l'ora, perché dico non fate un prezzo unico, per esempio due euro? Perché se io me ne vado in Ortigia, prendo il bus alle nove e chiede a mangiare al ristorante, forse mai chiedevo con un mutuo mangiare. Perché se no, se poi passano l'ora, c'ero, quattro ore, mi vanno a costare, che assai lo mangiare. Quindi fate un unico prezzo, due euro, parcheggiate la macchina e poi il pulmino è gratis, per grazie di Dio. Sempre in merito all'Ast, non all'amministrazione. Facciamo la cenella, che cosa c'è in questo bellissimo posto balneare, molto bello, pulito, l'acqua limpida, cosa c'è che non può, dottore? Ma intanto facciamo la premessa che è importante, Arenella, Fontane Bianche, due realtà storiche, due aree che hanno dato sfogo a una cittadinanza siracusana, prevalentemente, ma comunque anche dell'Interland, dal punto di vista delle vacanze, che non hanno niente da invidiare rispetto a altre zone della Sicilia, Calabria, Sardegna. Per cortesia, stendiamo un melo piedoso, Siracusa offre con il suo mare quanto di meglio ci si possa aspettare. Noi abbiamo ricevuto una sollecitazione da parte dei residenti fissi, cioè per tutto l'anno e anche estivi, dell'Arenella. Perché il Comune è latitante per quanto attiene la, chiamiamola così, manutenzione, per quanto ottiene la vivibilità dell'Arenella. Sì, se non dipendesse dai residenti, francamente, l'Arenella verserebbe in uno stato completo di abbandono. Cosa ti lamentano questi residenti, dottore? Intanto faccio una premessa che tante volte si è parlato di Comitato per l'Arenella, che per quanto mi arrivano dalle notizie che naturalmente hanno confermato l'assoluta non dichiarazione dal punto di vista legale. Un Comitato, quando si costituisce nella fattispecie Comitato pro-Arenella, deve avere un atto, anche significativo, un riconoscimento, diciamo così, locale. Mi dicono, da verificare, ma i residenti lo sanno, che in effetti è questo Comitato pro-Arenella, che poi, fra le altre cose, è molto vicino a Cicciuzzo Nostro, per cui, diciamo così, che si odorano, non contrastano, non si mettono a confronto. E allora andiamo a capire, allora ci sono centinaia di famiglie residenti all'Arenella che hanno rimarcato questo. Non è per gelosia, Cicciuzzo, tu sei uno geloso, la gente non è gelosa, la gente da te vuole conforto, che tu lasci a desiderare, la gente vuole la tua efficienza dal punto di vista sanitario, 23 febbraio dell'anno scorso, una vergogna Ciccio, tu ti sei lavato le mani sul Covid, nonostante le sollecitazioni gratis da parte mia. La gente vuole efficienza, e tu devi garantire, Siracusa e l'Interland che le appartiene, con cosa voglio dire, via Le Pipoli, l'ultimo in ordine di tempo, là sopra la... o per le zone, diciamo così, Villaggio Miani, eccetera, un disastro. Ma continuate a non fare niente. L'ultima pioggia che c'è stata, dottor, la gente l'ha presa in giro, uscendo con le barche e così via. E infatti è proprio così. Allora, qui ci sono una serie di problematiche all'Arenella che vanno affrontate. Noi non è una menaccia, te le segnaliamo, come abbiamo segnalato nel tempo, tutte le inadempienze cui la tua amministrazione, tu sei il tuttologo dell'amministrazione, tu sei quello che ha gli assessorati, non puoi imputare alla carenza dell'assessore X, eccetera, eccetera, o Y, no, sei tu che sei l'adempienze, sei il sindaco e tuttologo di tutte le rubriche, eccetera, eccetera. Ma sei inefficiente però. Cosa segnalo, dottore? Le buche? Le buche nelle strade, vi faremo vedere delle foto, zona ex lido della polizia scoscesa, pericolosa, le luci, le sole delle molucche, i lampioni che di fatto non esistono, sono inattive perché si sono rubati, che cosa è il rame? Ma a noi che ci interessa, scusa, noi paghiamo le tazze e tu li devi mettere, li devi rendere attive. Quindi è sempre una tua mancanza. dici che cosa vuoi fare, anche perché hai ribadito da poco che ti vuoi ricandidare e noi siamo felici, ti aspettiamo al Varco, quando sarà la prossima tornata elettorale. Quindi sa quanti voti prenderà, dagli abitanti della Renella, c'è il dubbio, ma non solo della Renella. Quello del villaggio Miano. Sarà un esploi, prenderà un sacco di voti. Sarà un esploi, eccetera, eccetera. Quindi, cicciuzzo, dattela una smossa. Non aspettare il 10, 11, 12, mi dicono settembre, quando ci sarà una bella manifestazione a cui tu hai dato la stura da un lato e parteciperai, eccetera, eccetera. Noi saremo sempre contenti, ti accompagneremo, ti verremo a vedere. Perché tu, non dimenticarlo, sei un esteta, vivi per l'estetica, che però ha fatto il suo tempo, che ha lasciato tante negatività, di cui ci darai conto presto. Penso che questo intervento fatto dal dottore Linaltardi, a favore, a favore, degli abitanti della Renella, sia quelli residenziali che quelli di Pasqua, che nel periodo estivo, stagionale, sia stato di vostro gradimento, e sperando che, come altre volte, abbiamo fatto qualcosa di positivo. Grazie dottore Linaltardi e complimenti sempre.